Qui bisogna mantenere l'equilibrio fra verdi e viola. Vedi Paola che procedendo piano piano lui viene da sé, adesso bisogna che aggiunga del verde e qua sennò perdo la definizione di questo. Bisogna portare in equilibrio avanti tutto quanto. Qui mi serve più verde. 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 Non so se vedi Paola che io sto viaggiando un po' intorno a Denso anche qui intorno ai... Noi vogliamo un sacco di amici, vogliamo parlare delle cose che ci piacciono e a me ci piacciono e ci piacciono anche le pitture. Comincia... Comincia a esserci bisogno... Cosa che ho visto come ho visto come lavora in diretta, sicuramente anche di tutto. Però adesso io sto disegnando, non seguo nessuno. ci fermiamo qui... Ci fermiamo qui. Alla domenica... Alla domenica dalle 9 e mezza di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu! Ciao! Ciao! Ciao!